KITO 5 LUGLIO CERIMONIA DI BENVENUTO Vengo come testimone della misericordia di Dio e della fede in Gesù Cristo. Non perdete mai la capacità di rendere grazie a Dio per quello che ha fatto e fa per voi. La capacità di difendere il piccolo e il semplice, di aver cura dei vostri bambini e dei vostri anziani, che sono la memoria del vostro popolo, di avere fiducia nella gioventù. Abbiamo bisogno di un Paese unito, ma anche di un Paese che rispetti il dialogo fraterno, un Paese che costruisca un progetto di patria a partire dalla diversità. Siamo per la maggior parte ecuadoriani, siamo in maggioranza cristiani. dimostriamolo con le opere nell'ambiente dove ci troviamo, dove è anche necessario essere presenti. Per questo l'appello all'unità, al rispetto, ma soprattutto alla costruzione di un mondo più giusto e fraterno. Guayaquil, 6 luglio, Santa Messa. Il vino migliore sta per venire, per ogni persona che accetta il rischio di amare. Dio si avvicina sempre alle periferie di coloro che sono rimasti senza vino, di quelli che hanno da bere solo lo scoraggiamento. Per noi la Chiesa in uscita è una Chiesa più vicina a tutti i giovani, bambini e anche a quelli che sono più lontani da nostra Chiesa. L'uscita vuol dire venire all'incontro del più bisognoso. Chito, 7 luglio, incontro con la società civile. Il rispetto per l'altro che si apprende in famiglia si traduce in ambito sociale nella sussidiarietà. La famiglia è Chiesa domestica, come già affermava Giovanni Paolo II. Dobbiamo rivalutare questo, dobbiamo recuperare le nostre Chiese domestiche. La visita di questo Papa per noi in Ecuador è qualcosa di molto importante, perché viene offrirci un messaggio di pace, di unità, di grande amore e fraternità per tutte le famiglie. Dobbiamo sognare in grande con una gioventù autentica, ricca di valori, che non sia emarginata né esclusa. E l'educazione deve formare a questo, a coinvolgere i giovani in tutto questo processo, affinché siano essi stessi agenti di vita. La Paz, 8 luglio, incontro con le autorità civili. Costruire ponti invece di alzare muri. La Bolivia sta attraversando un momento storico. La politica, il mondo della cultura, le religioni, sono parte di questa bella sfida dell'unità. Il popolo boliviano deve riconciliarsi, non si deve far differenze tra campagna e città, tra campesino o persone che vivono in condizioni economiche migliori, ma lottare per una vera fraternità che è quanto vuole il Signore da ciascuno dei battezzati. Santa Cruz, 9 luglio, secondo incontro mondiale dei movimenti popolari. Il futuro dell'umanità non è solo nelle mani dei grandi leader, delle grandi potenze e dell'elite. È soprattutto nelle mani dei popoli, nella loro capacità di organizzarsi e anche nelle loro mani che irrigano, con umiltà e convinzione, questo processo di cambiamento. Io vi accompagno. Bisogna avere il coraggio di guardare a questa gente con gli occhi misericordiosi del Padre. Il bene comune deve essere dignità, deve essere uguaglianza, deve essere diritti, deve essere uguale opportunità per tutti, in modo speciale che uno possa vivere la sua vita come una vocazione e portarla a compimento. Questo, credo, è una sfida enorme ancora una volta per noi. Assunzione, 10 luglio, incontro con le autorità e il corpo diplomatico. Non dobbiamo rimanere nella conflittualità. L'unità è sempre superiore al conflitto. L'amore deve essere l'impulso a crescere ogni giorno, di più, in gestioni trasparenti, che lottino vigorosamente contro la corruzione. Questo messaggio è necessario in un mondo che vive oggigiorno una terribile diseguaglianza, in cui esistono persone escluse, gli scarti, che devono essere inserite nella società, perché la società è per tutti e questo è un motivo di impegno. Un compito che la democrazia deve portare avanti è costruire una società più plurale e diversa. Non è possibile che ci sia un Paraguay ricco e uno povero. E' importante costruire un paese, una società plurale. Assunzione, 11 luglio, santuario di Cacupè. Quando tutto sembrava crollare, insieme a Maria vi dicevate, non temiamo, il Signore è con noi, è col nostro popolo, con le nostre famiglie. Facciamo quello che Lui ci dice. Dio benedica questa tenacia, Dio benedica e conforti la vostra fede. Dio benedica la donna paraguaiana, la più gloriosa d'America. Allora la donna ebbe un ruolo importantissimo, in particolare la donna paraguaiana, che si è rimboccata le maniche e si è messa a lavorare con i pochi uomini che restavano, si è messa a risollevare la nazione che era decimata. Oggi è per noi un grande onore che il Papa la ricordi, la metta in luce e la consideri come la donna più eroica dell'America Latina. E' un onore e un orgoglio per noi paraguaiani che il Santo Padre riconosca questa grande dignità della donna paraguaiana. Veramente per noi è stata più che una gioia, è stata una grazia grandissima per la nostra vita. Soprattutto per noi consacrate, laiche o anche giovani, un regalo immenso che Dio, solo Dio, può offrirci. Mai avremmo pensato che Francesco venisse qui in Paraguay. E' qualcosa di incredibile per noi. E' la Chiesa in uscita, la Chiesa che vive il Vangelo arrivando fino alle periferie più misere del mondo. E questo è quanto ci comunica il Papa. E' sua santità. E' un uomo che non parla molto, un uomo che predica soltanto con i suoi gesti. E questo è l'insegnamento di Papa Francesco. E' la Chiesa in uscita con i suoi gesti. E' quello che insegna il Papa Francesco con questo.